Grande successo delle mostre per Leonardo e per Raffaello Affano, Pesaro e Urbino che insieme hanno raggiunto 42.648 presenze a testimoniare il forte interesse per questo evento dedicato a due geni del rinascimento italiano dai disegni di Leonardo al De Architettura di Vitruvio, dalla delicatezza di Raffaellino del Colle alle visioni oniriche di Agostino Iacurci il dato di affluenza al 13 ottobre, giorno di chiusura, si riferisce a tre mostre visitabili come da progetto dai tre comuni nell'ambito delle celebrazioni promosse dal MIBAC per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci nel 2019 e Raffaello Sanzio nel 2020 bilancio positivo sia per le città che per l'intera regione con l'obiettivo di valorizzazione del patrimonio locale bilancio molto positivo, dicevamo 43.000 visitatori anche stranieri soprattutto nei mesi estivi quando sono importanti le presenze turistiche soprattutto del turismo balneare ma anche tante famiglie che sono venute invece nei mesi di settembre e di ottobre tante scuole realizzare una mostra significa anche animarla, significa realizzare prodotti pensando ai target di riferimento positivo anche il bilancio degli eventi collaterali che in tutte le sedi hanno registrato numeri importanti di presenze tra spettacoli, visite a tema, attività esperenziali e laboratori a Fano numerosi gli appassionati che sono tornati più volte ad ammirare i disegni di Leonardo a Urbino invece molto partecipate le visite della mostra Raffaello e gli amici di Urbino a Pesaro invece la mostra Agostino Iacurci sarà visitabile fino al 24 novembre le attività proseguiranno nel fine settimana grazie per la visione grazie a tutti grazie 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 Grazie.